Io prima giocavo a basket, uno sport che non c'entra proprio nulla e vedendo un ragazzo che faceva basket e contemporanea faceva anche bici ho deciso insieme a mio papà di incominciare, di provare così giusto per gioco. Io ho iniziato da G5 e inizialmente non facevo nemmeno fatica a stare in gruppo tanto è vero che già inizio anno, le ultime corse, avevo già 2-3 vittorie e da G6 ho cominciato a vincere già da inizio stagione per poi continuare sempre una fase vincente durante le categorie giovanili. Finora penso di essere stato un corridore piuttosto completo anche perché della salita di salitelle di 2-3 km difficilmente mi staccano e quindi essendo anche molto veloce riesco ad arrivare giù in fondo magari in un gruppetto ristretto e vincere la volata. A me è piaciuta molto la riconferma del Peschenettarine della prima tappa perché vincendolo anche l'anno prima di solito è difficile vincere ma è il doppio più difficile riconfermarsi quindi penso che sia stata la vittoria più bella dell'anno. Più rammarico è stato il secondo posto del Gran Premio del Porto perso per un millimetro neanche al photo finish essendo una corsa di grande prestigio e di livello internazionale ci puntavo però è andata male. Ma a parte il chilometraggio cambia molto il ritmo perché nei dilettanti si parte a tutta e si arriva a tutta mentre qua si tiene sempre quel ritmo che comunque dà fastidio sei sempre in tiro, in tiro, in tiro e alla fine chi ne ha va e il resto si ferma purtroppo. Ma un'esperienza bellissima ho potuto correre la Gostoni, la Bernocchi non ho potuto fare Parigi, Bruxelles e For Me per un problema fisico ma devo dire che mi sono trovato bene e mi è piaciuta come corsa. Ma verso fine mese ho capito l'andazzo com'era io ho avuto altre proposte oltre a qua ma penso che sia stata la squadra che mi ha accolto meglio di tutte quindi non ho esitato una volta e sono venuto subito qua. ma cercherò di imparare il più possibile dai ragazzi più grandi e più vedremo se riesco a ritagliarmi qualche pezzettino di corse in modo da trovare qualche risultato ma per lo più sarò a disposizione di tutti i ragazzi per poterli aiutare al meglio per una loro vittoria. Ma in futuro a me piacerebbe vincere la Milano-Sanremo una corsa che mi piace tanto anche per la lunghezza di solito sono un corridore che nei tratti corti fa più fatica rispetto a un chilometraggio più ampio quindi penso che in futuro ci punterò. Mentre nell'immediato a me piacerebbe molto la prima tappa della Coppia Bartida appunto che arriva nel mio paese quindi mi piacerebbe arrivare davanti. Ma in passato essendo un velocista proprio pur che di salita ne facevo molto a poco mi piaceva molto Cavendish ora essendo un corridore un po' più completo mi piacerebbe un ispiro a un Peter Sagan anche perché si riflette molto sulle mie caratteristiche. Ma a difetto sono un lamentone nel senso che mi lamento sempre non mi va mai bene niente. Un pregio sono molto calmo molto scherzoso e niente.